il ginocchio è importante chiudere bene il 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 no ok 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 un po di più che si spagga tutto all'ultima prima cosa devi fare spingi questo giusto per sentire si spingi visi si spingi vedi cosa spingi vedi sempre vengo qui vedi vedi adesso impara solo a vedere questo momento spingi Sì, ho, vedete? No, non deve usare tanto forse. Deve essere molto più giro, vi metete. Ancora, non lo so? Sì, sì. Vedi, cosa succede? Hai. 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 Hai, che hai, facci o quale? Sì. O quale? Prendi. È. È ja. Funciona? Funciona. Funcionan-o? Sì. Ti vedo se tu papкрote per liberarlo. Ok, così. Ok. Felipe. qui 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 non così qui e poi non vado qua va da là non vado qua va da là non vado qua va da qua qui qui vedi qui molto più attaccato a te questo è meglio e provare a pian piano fare quello che mi serve vedi ti chiudo e c'è una connessione tra caviglia vedi il ginocchio e poi l'anca ah ok e qui ti controlla lo stesso bene se non ti permette alzarsi quando ti alzi ti liberi ti ricordi quello si che bisogna aggersi che ti da devi mettere il piede dentro si senti il cambio di forza questo è importantissimo vedi? vedi come ti chiudo non sono rilassato sono qui ti chiudo bene vedi? e poi vado qui guarda guarda vedi? ti chiudo bene stringo con le zambe e ti avvicino e poi pian piano vedi